Musica Bentrovati a questa nuova puntata di Adconsum Informa In studio con me è Loredana Baldi di Adconsum Marche Bentrovata Loredana Grazie e salve a tutti Parliamo oggi del progetto Digital Mentis Qualcosa ce lo fa intuire già il nome È un progetto pilota in cui Adconsum Marche È impegnata insieme ad altre regioni E lo vogliamo raccontare oggi Prego Loredana Sì, come dicevi tu Si tratta di un progetto pilota sperimentale E è finanziato con fondi del MIMIT Quindi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy E copre dal punto di vista temporale Il biennio 2023-2024 Quindi è già iniziato nel 2023 E terminerà nel 2024 Come ci dice il nome Digital Mentis Il progetto riguarda appunto L'aumento, lo scopo del progetto È quello di incrementare le competenze digitali Della popolazione Con particolare riferimento però alla popolazione adulta Quindi c'è una particolare attenzione Sulle persone, sui cittadini over 65 Quindi che hanno più di 65 anni Ma anche sulle persone che hanno una qualche fragilità Che può essere una fragilità fisica Una fragilità sociale O anche una fragilità economica Perché? Perché queste persone Sono quelle che rischiano maggiormente Di restare fuori dal processo di digitalizzazione Che oramai è iniziato E che proseguirà in maniera inarrestabile Nei prossimi anni E quindi naturalmente c'è la necessità Di aiutare queste persone A poter aumentare le loro conoscenze Le loro competenze Nell'utilizzo degli strumenti digitali Nell'accesso a dei siti internet Perché oggi ad esempio Molti siti della pubblica amministrazione Molti anche sportelli Sono accessibili quasi esclusivamente In maniera digitale Per cui il ministero ha evidenziato La necessità appunto di colmare queste lacune Di colmare il divario Tra coloro che sono oramai digitalizzati Conoscono benissimo questi strumenti Non hanno problemi ad approcciarsi Alle nuove tecnologie E coloro invece che sono un pochino più indietro Quindi magari non sanno utilizzare bene lo smartphone Non sanno come scaricare un'app Non hanno un indirizzo mail Tutti elementi che oggi invece sono necessari Appunto per approcciarsi a questo nuovo sistema Che è molto incentrato sul digitale Abbiamo voluto la digitalizzazione Stiamo ancora spingendo molto Proprio come Paese Italia Sulla digitalizzazione E dopo il Covid Come dicevi c'è stato un passo in avanti Molto frettoloso Perché costretti Tra virgolette A fare sempre più uso Dei mezzi digitali Per cui per non far rimanere nessuno indietro E le categorie di cui ci parlavi Insomma sono quelle più soggette Un progetto che vuole mettere al centro Io vedo in quadro per esempio Il sito www.digital-mentis.website Che è il sito dedicato proprio a questo progetto C'è sulla home page come installare un antivirus Un'operazione che per molti potrebbe essere semplice E magari invece per tanti non lo è Così insomma anche sono indicate le regioni Che partecipano a questo progetto Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia, Giulia Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto Con la regione toscana capofila Appunto andiamo a vedere poi Quali sono però nello specifico Gli obiettivi che si pone questo progetto digital-mentis Sì, dicevamo prima Il primo obiettivo ovviamente è quello di dare Un'alfabetizzazione di base Alle persone, ai cittadini A tutti coloro che si trovano in difficoltà Nell'utilizzo dei servizi digitali Il secondo obiettivo è quello di permettere Ai cittadini consumatori Appunto con particolare riferimento a queste categorie Over 65 persone fragili Di utilizzare le nuove tecnologie In maniera consapevole e sicura naturalmente Quindi muoversi con sicurezza E poi appunto quello di consentire A queste persone di accedere Intanto di accedere ai servizi digitali Perché molti non hanno proprio accesso Non hanno un computer Non hanno un indirizzo mail Non hanno lo speed E tutto questo ovviamente limita moltissimo La loro capacità di poter Adeguarsi allo sviluppo della società Che appunto la società ha acquisito in questo momento Ricordiamo che tra gli obiettivi del PNRR E nell'Agenda 2030 Ci sono degli obiettivi molto precisi Che riguardano l'incremento Delle capacità digitali della popolazione E l'Italia purtroppo Non è tra i primi posti assolutamente All'interno dell'Unione Europea E quindi sicuramente c'è la necessità Di fare questo tipo di attività Le attività progettuali sono molto interessanti E tu facevi vedere quel sito Ti chiederei di rimetterlo Perché ad esempio Una delle attività del progetto È quella di produrre del materiale didattico Che può essere sotto forma di videopillole Tutorial Dei piccoli corsi Che sono fruibili su online Possono essere fruiti proprio attraverso questo sito Come vediamo in questo momento Ci sono corsi che riguardano L'utilizzo consapevole di computer e smartphone O gli acquisti online Quindi essere consapevoli dei propri diritti E anche di come muoversi I social network Le truffe bancarie I servizi online Quindi tutta una serie di piccoli corsi Anche brevi Che possono essere fruiti Non necessariamente dal computer Ma anche dal telefonino Scaricando un'app E che ci danno la possibilità Di poterci informare Poter aumentare le nostre conoscenze Le nostre competenze In qualunque posto noi ci troviamo Quindi tranquillamente a casa Utilizzando appunto lo smartphone O se vogliamo dal computer E hanno una durata Che è anche una durata breve Quindi non richiede Diciamo non sono dei corsi Che richiedono ore di formazione Però sono molto utili E anche molto molto fruibili O abbiamo avuto modo Di vederli Di seguirli Poi questi che voi avete visto Sono alcuni corsi Ma nel tempo Verranno ovviamente aumentati Verranno aggiornati Con altre problematiche Ed altri argomenti Per fare questo È necessario registrarsi Quindi è necessario Ad esempio Avere un indirizzo mail E quindi torniamo un po' Al discorso che facevamo prima Quindi questa è La prima modalità Con cui si muove Questo progetto C'è ovviamente Anche una seconda modalità Che è quella di Di realizzare Degli incontri Con la popolazione Quindi con la popolazione Target di questo progetto Incontri di educazione Di formazione Appunto digitale All'utilizzo Delle competenze All'incremento Delle competenze digitali All'utilizzo Degli strumenti digitali E anche Un po' Come muoversi Quando ci si avventura Per la prima volta In questi In questo ambito Questi incontri Ad esempio Saranno realizzati Con la partecipazione Dei facilitatori Che sono Dei formatori Che hanno seguito Una Specifica preparazione Che è uniforme Su tutto il territorio nazionale Abbiamo seguito Dei corsi Realizzati Da Repubblica Digitale Che sono appunto Gli stessi Tante ore di formazione Devo dire Quindi Proprio per dare La possibilità Che le persone Siano effettivamente Supportate E Quindi il tutto È fatto in una maniera Molto precisa E molto seria Accanto a questo Poi c'è la realizzazione Dei punti Di facilitazione digitale Nella regione Marche Ce ne sono 19 E di questi 19 Di Consum Marche Ne gestisce 5 Dove Il consumatore Potrà recarsi Appunto Per avere Assistenza Per Dicevamo prima Aprire un indirizzo mail Registrarsi a un'area Riservata Per esempio Di un nostro Fornitore Di energia elettrica Gas E poter scaricare Le bollette Dare l'autolettura Su internet Quindi Tutte queste cose Che poi sono Estremamente utili Nella vita quotidiana Assolutamente Come dicevamo Prima Oggi Più che mai Facciamo rivedere Il sito www.digital-mentis Punto Website Sito molto semplice Molto intuitivo Ci sono le categorie Di corso Basta scegliere Una categoria Per esempio Social Network E ci sono I vari argomenti Social Network Più utilizzati In etichette Di comportamento Social Riconoscere Le fake news Questo Importantissimo E una volta Che si sceglie Ecco Uno degli argomenti Ci viene richiesto Appunto Il login Quindi Del nostro Username E La nostra Password So che Tramite questo portale Si può scegliere Anche L'associazione Di consumatori Perché appunto Questi progetti Sono gestiti Dalle associazioni Di consumatori Di riferimento E ovviamente Insomma Siamo con Adconsummar Che Loredana Ci ha spiegato Tutto questo progetto E potete contattare Adconsummar Che mettere come preferenza Diciamo Adconsummar Che per Quanto riguarda Del progetto Digital Mentis Io ringrazio Loredana Baldi Per essere stata con noi Anche oggi Grazie mille Grazie a voi E a voi Do appuntamento Alla prossima puntata Di consumi in forma Arrivederci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.